La giunta di Borgomanero, con apposita delibera, ha recentemente approvato il progetto definitivo esecutivo dei lavori di sistemazione alveo e sponde del torrente Grua e del torrente Sizzone di Vergano. Si procederà con la realizzazione di adeguati interventi aventi lo scopo di ripristinare il regolare deflusso idrico negli alvei dei corsi d'acqua del rio Lagone, del torrente Grua, del torrente Agogna Vecchia, torrente Sizzone. Scarica gratuitamente l'app News24 e leggi gratis i nostri giornali e se vuoi vedere tutto il video abbonati alla nuova televisione online e live 24 ore su 24.